Volevo fare una testimonianza, il corso rosa fatto era appunto ottobre e vi ascuro che qui veramente potete ridurre di due terzi tempi di lettura e aumentare molto velocemente la memoria non solo nello studio ma per tutte le cose quindi vi ascuro siete in una botte di famiglia questa sensazione dove l'hai usato perché poi lui era bellissimo cioè lui ci chiamava ci chiedeva vedete è quella la cosa bella una persona quando ci tiene in quel libretto lì si è scritto tutto quanto ecco anche per trovare le persone ma sono dovuto per studiare meglio per memorizzare meglio bene per ricordare il numero del mio bancomat della mia carta di credito associo con i numeri lato l'immagine quello è il codice del mio bancomat della mia carta di credito allora io sono in gelateria mi occupo di gelateria ecco io ho già un po' di ricetta fatta per cui però ecco mi sono messo a studiare a approfondire per conto mio i libri di marketing comunicazione applicando la regola della brain up e vi assicuro che funziona veramente buon corso grazie